Ci sono 4 società e 11 persone tra gli iscritti nel registro degli indagati dopo la conclusione delle indagini preliminari sul caso della Fondazione Open. Tra le persone a cui la Procura di Firenze ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini compaiono anche Matteo Renzi e Maria Elena Boschi che, secondo l'accusa, avrebbero ricevuto una somma di circa 3 milioni e mezzo di euro tra il 2014 e il 2018. La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sul caso Open, la fondazione che ha sostenuto Matteo Renzi nella sua ascesa politica. Nel registro degli indagati figurano 11 persone tra cui il senatore di Italia Viva, i deputati Maria Elena Boschi e Luca Lotti, Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione, e Marco Carrai, imprenditore. Oltre a loro, l'avviso di conclusione delle indagini è stato inviato anche a 4 società. I reati ipotizzati sono quelli di finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio e traffico di influenze. Secondo l'accusa, gli esponenti politici coinvolti nell'inchiesta avrebbero ricevuto circa 3 milioni e mezzo di euro tra il 2014 e il 2018 dalla fondazione Open per sostenere la propria attività politica. Per quanto riguarda l'ipotesi di corruzione, sarebbero due gli episodi contestati a Luca Lotti. Il deputato PD ed ex ministro è stato componente del consiglio di amministrazione della fondazione e secondo la tesi dell'accusa, tra il 2014 e il 2017, avrebbe favorito con interventi normativi alcune società finanziate da Open, in particolare la Toto Costruzioni e la British American Tobacco. Per quanto riguarda l'ipotesi di corruzione, la Toto Costruzioni e la Toto Costruzioni, la Toto Costruzioni e la Toto Costruzioni, la Toto Costruzioni e la Toto Costruzioni.